bella ragazzuoli allora ho visto che qualcuno mi ha commentato il video che ho fatto con il cruiserino in giro quindi a quanto pare piace anche questo genere di video e quindi oggi ho deciso di portarvi in un altro se potete vedere non so dalla camma o la faccia a bordo perché è da un po che sono qua in uno skate park che adesso vi farò vedere adesso andiamo di là vi faccio vedere un po e sono un paio di giorni che vengo qua mi sono trovata bene mi diverto un casino è vicino casa mia milano quindi io vengo qua con il cruiserino mi porto dietro attaccato allo zaino l'altra volta me l'hanno prestato stavolta portato lo skate e quindi sto provando qualcosina quindi fatemi sapere anche se questi video vi possono interessare così ne farò altro adesso vi faccio vedere un po vai eccoci qua vi faccio vedere un po come vi dicevo il posto adesso ho conosciuto dei ragazzi simpaticissimi e quindi vi faccio vedere un po il posto vai 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 let's try this again esatto 1 posto vai andati higher Allora, andiamo Adesso non riuscirà mai Lo so, lo so, lo so Let's go, vedi? È il bello della diretta, come dicono Allora, vabbè, dobbiamo provare anche l'altro Sì, sì No, no, invece Ok Ok, te lo faccio anche in avanti Così vedi anche i progressi Progress motion Bene, dai Piano piano, quindi queste sono le cose che sto provando oggi Ho provato anche qualcosina l'altra volta Poi ragazzi vi farò vedere meglio Prossima volta con più calma Adesso c'è un po' di gente Vai Vai, vai Figa, grande Bello, bello Grande Figa ragazzi, adesso è bellissimo Perché adesso non c'è un cavolo di nessuno Siamo ritornati, abbiamo fatto una pausa Siamo andati a bere, io e lui E siamo tornati qua a provare qualcosa Perché c'è poca gente Si sta da Dio Perché non fa caldo Quindi proviamo un paio di cose Cioè, mi finisci la ripresa a me? Subito Grazie Io non riesco a fare quello che fa lui Però vabbè Provo a fare quello che riesco a fare Stai provando a salire sopra? Sto voglio farmi del male Cioè, gli passo il telefono Vediamo cosa sono riuscita a fare Non è vero Assolutamente falso Olè Olè In totale serenità Che scioltezza Qua bisogna Qua siamo stati un po' troppo ambiziosi Esatto Esatto Un po' più basso Magari Non si può provare Olè E poi voglio scendere da lì Andiamo Vai vai No worries Anche tirare sullo skateboard Con scioltezza Ma questo lo sapevo già fare Ok Questo lo sapevo già fare Però con questo facevo più fatica Perché l'ho avuto con l'altro E pesa diverso Vabbè dai qualcosina Allora ragazzi Eccomi qua di ritorno Dallo skate park Alla fine abbiamo fatto tardi Perché poi siamo andati a berci una coca cola Abbiamo provato ancora un po' di cose Visto che si è svuotato lo skate park Quindi ho lasciato appunto il video E niente Mi sono divertito un casino Adesso vediamo se riesco a farci un salto anche domani Devo fare un po' di cose Ma se ce la faccio vado anche domani Sono trovata stra bene Poi ho conosciuto Dei ragazzi che Anche loro Un ragazzo che anche lui sta imparando Con un altro suo amico Che comunque andava da tanto tempo Quindi Gli altri che ho conosciuto la volta precedente Quindi mi sto divertendo tantissimo Quindi penso che anche quando tornerò Dalle mie parti casolate Ci verrò magari qualche volta Durante la settimana Mi sono riuscita già a spaccare un ginocchio Perché ho voluto provare 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 Anche cose che non era il caso di provare Già da adesso Quindi mi si sta tipo gonfiando un ginocchio Non so se Si vede Penso che domani avrò un ginocchio tipo viola Ho picchiato ginocchio Gomito Vabbè Però Comunque mi sono rialzata E sono andata avanti a farci anche qualcosina Quindi adesso poi ho detto A parte che stava chiudendo il posto Ma poi ho detto È meglio che me ne vado a casa perché devo far riposare un po' il ginocchio Anche Il ragazzo che era con me doveva andare anche lui a casa E Mi ha dato uno strappo in macchina Infatti io volevo farvi la chiusura del video Mentre tornavo Col cruiserino Ma Per fortuna è stato gentilissimo di accompagnarmi lui Perché col ginocchio così Fare comunque sforzo con la tavola anche dietro e tutto Non era il caso Se voglio andare magari a fare qualcosina Di allenamento anche domani E niente Fatemi sapere Se appunto vi piacciono questi video E noi ci sentiamo Quindi qua nei commenti E vi aspetto nel prossimo video Bella ragazzi Adesso voglio fare quello lì Allora Come che era Tanto adesso mi uscirà una merda Questi video Questa è la prova di oggi L'obiettivo di oggi Guarda Così Io lo piano Vai vai Un po' più veloce Così Può �i Ko Vale Ciao Ciao Grazie a tutti.